Io avevo pensato alla voce delle campane Noi per la nostra tradizione che è specifica di Asola sono i rintocchi Io avevo una collega suona che diceva sempre che il suono argentino delle campane di Asola non l'aveva mai sentito in nessun altro paese della provincia di Malto I rintocchi adesso non ci sono più ma una volta il campanaro asolano il mattino suonava l'Ave Maria e dopo un paio di minuti suonava dei rintocchi Un rintocco voleva dire che era sereno, due rintocchi c'era nuvolo, tre rintocchi pioveva e con quattro rintocchi tutti correvano alla finestra perché nevicava La scuola dell'infanzia era dove c'è adesso la biblioteca Io avevo i bambini che piangevano, soprattutto i piccolini di tre anni che piangevano disperati perché volevano andare a casa dalla mamma Allora io aprivo la finestra e dicevo quando tu senti il suono delle campane vuol dire che la mamma sta arrivando E loro si risollevavano e smettevano di piangere La nostra campana, quella che suona le ore in piazza, si chiama Marangona Marangona è il nome della campana di Venezia, quella che dava inizio, San Marco, che dava inizio lavori e fine lavori ai marangoni, quelli del cantiere, quelli del cantiere navale Quindi anche la nostra, siccome dava termine a mezzogiorno, tutti staccavano dal lavoro e quindi si chiama Marangona come quella di Venezia